Il diffido dei politici che vanno in giro non avendo competenze a dire sono qua. Noi siamo stati qui H24, mattina, sera e notte, a coordinare tutte le attività. Abbiamo scelto il nostro uomo migliore, quello che aveva le competenze per risolvere i problemi, che è l'assessore Cosenza, il professor Cosenza, che ha una grandissima esperienza, anche di carattere professionale, sulla protezione civile, sui grandi disastri nazionali. Se ne è occupato da professore universitario, da tecnico, e quindi abbiamo mandato il nostro uomo migliore, che aveva le competenze per risolvere le questioni, anche lì senza fare pubblicità passerelle, ma per risolvere le questioni. E posso essere anche tra le difficoltà oggettive, condividiamo la difficoltà della cittadinanza, ma quando ci sono 5 metri di neve è un fenomeno unico in Europa a livello nazionale. Però rispetto ad altre regioni italiane, la regione Campania è riuscita a raggiungere, continuo, comunque tutti i comuni, con l'aiuto delle prefetture, delle province, quindi grande sforzo delle comunità locali, tutti hanno fatto il loro dovere. Altre regioni hanno, come sapete, ancora zone isolate, non raggiunte. Certo hanno avuto forse più comuni colpiti, alcune in realtà del centro, però tra le tante difficoltà abbiamo scelto la strada più giusta, quella di evitare passarelle inutili, ma di lavorare, di lavorare anche silenziosamente con tutta la filiera istituzionale.